Ciao a tutti, questo sarà un video piuttosto corto, infatti volevo solo accennarvi ad alcune tipologie di video che ho in mente per il canale, infatti oltre ai soliti video che vedete, quindi recensioni di libri e letture del mese ho in mente anche altre tipologie di video, e cioè video dedicati al film, serie tv o cose del genere poi video tema, nel senso dedicati magari ad un personaggio di un libro o ad un argomento che magari mi vai di parlare e poi magari fare dei video dedicati ad un particolare scrittore o regista nel senso magari nel caso dei registi della vita o dei film che hanno girato o cose del genere e nel caso dei scrittori delle opere, stili di scrittura o cose del genere questo è tutto, fatemi sapere se questi tipi di video possono piacervi e noi ci vediamo alla prossima, ciao!